Pella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono TheGrossGamerDB e oggi siamo con... Veronica! E oggi faremo una challenge che si chiama... Whisper Challenge, che consiste nel... Cosa c'è? Dovevo dire io che consiste e tu andavi avanti! Che consiste? Che consiste, allora... Una persona ascolta la musica con delle cuffette, mentre deve essere alta la musica, mentre l'altra persona dice delle frasi, anche a caso, possono essere delle frasi senza senso, però deve dire... Tipo adassunf? No, deve essere delle parole... Tipo un'altra stupida? No, ma puoi anche dire il gatto, la nonna, la zia. Ah, ok, vabbè. Così. E... Cosa stavo dicendo? Vabbè, dai. Una persona deve dire parole... E in questo foglio segniamo i punti? Sì. E... Sì, esatto. Perché D? The Ghost Gamer, invece... Ah, no, in realtà ci andava l'attimo, vabbè. Ok, no, no. Allora, aspetta. Allora, inizio. Ecco. Adesso attiverò la musica se lo copie stanno. Ovviamente non ve la possiamo far sentire. Allora. Devi guardarli. Minchia. Ripeti. Minchia. Minchia. Affunculo. Allora, adesso lei, ovviamente, adesso prende un punto, no? Poi se ci metti tanto a indovinare la parola è mezzo punto. Sa nulla, ecco. Ok, allora, vediamo sto cazzo di canzone che hai messo. Vai. Vai. La nonna. Allora. La nonna. La rotta. La nonna. La luna. La lona. La lone. Il coglione. La. La. Nonna. Nonna. È. È. Strana. Strana. Un punto. Si fa così. E dai. Succhiatevi dopo. Adesso com'è? Adesso siamo un po' ali. Allora. Aspetta, metto io il via. Baffanculo. Si sta. Oh, ma io non riesco mai a leggere. Io. Te. Io. Te. Io. Io. Sono. Sei. Sono. Sono. Un imbecilla. Un imbecilla. Un imbecilla? Sì. Ho urlato. Sì. Un imbecilla gli ho fatto dire che è. Sì. Ehm. Pronto? Sì. Sì. Ah! Ah, come bubbo. Sì. La pinna. La mele. La pinna. La mela. La pinna. La menna. La pinna. La mela. la penna per? penna bene? penna ah la penna è? no la penna va? va? via va? via via? si facciamo 0,5 perché ti ho fatto così va bene dai allora alla fine vi diremo anche la canzone che abbiamo ascoltato sempre tutto lo stesso tieni ciao ciao mi chiamo mi chiamo stronza babè eh? stronza babè eh? stronza babè eh? vaffanculo vaffanculo a te a mia mamma la mamma? si eh? eh? cacca 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 tu io sei tu sei tu sei tu sei io sono io sono una una merda merda nooo che cacca tu urli sempre allora anche tu a quanto siamo? eh madonna devi tenerle devi tenerle bravo vibrando le cuffie a forza della canzone non serve che urli eh gli occhiali 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 zia armadio armadio al mano armadio sono nell'armadio gli occhiali gli occhiali zia nel zia zia armadio armadio non volevo dire quella parola per i bimbi piccoli di occhiali non voglio rire niente ma qua come hai scritto uno sembra un due non c'è niente a scrivere eh vabbè noi ti diamo un punto in più stavi ferma allora poi viene il mal di testa con quella cazzo di canzone porca vacca bene ok questa è l'ultima parte tanto so che ho perso io perché quel mezzo punto da me ci ho detto io cacchio 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 io io sono eh sono sono una una stronza 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 non è finito ah e e andiamo 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 tutti tutti a a fanculo fanculo sentite che alta è la musica madonna se si sente fino alla dica anche la figura di te bene allora 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 e ecco questi sono i risultati allora io ho perso di mezzo punto e io ho preso ho fatto quattro e lui ho fatto tre e mezzo beh ora la canzone che stavo ascoltando da un attimo dall'inizio facciamola sentire due secondi da un attimo dall'inizio facciamola sentire due secondi monica e lasciate un bel commento qui sotto nei commenti lasciate un bel pollicione in su anche due visto che siamo in due vieni qua basta e soprattutto insieme iscrivetevi al canale guardate che a scrivere da veronica è tutto e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima ciao tutti che schifo iscrivetevi al canale